le cose più vecchie che c'hai fra chi si ricorda queste qua le capsule gloriose capsule campione gloriose vai a partire da quella aspetta 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 valore non dice nulla ah ok si sono queste qua e faccio apri una dai si si no 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 faccio la pulse apri sei vado 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 ok ok ehm 16 allora voliber soraka oh ci sta 2 talia è un nuovo campione si chiama 2 talia poi camille aspetta non possiamo farlo poi luna willum kindred clad zilean singed twitch galio cartus dottor mundo nocturne leblanc e set in che senso quindi niente ok ok adesso adesso escono le cose belle ranna i no 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 aspetta 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 fermi fermi come se che il party livello 26 mi serve ma dice come andato a partire ok ok quello sopra ok poi vediamo non hai una story questa da seguire aspetta 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 olaf taric leggenda 4 proprio lui e lume leggenda gloriosa bah ok poi vediamo vediamo kaisa sona fiddlesticks leggenda 5 ok dottor mundo ancora bard gragas gemma attenzione una gemma e leggenda 6 ok adesso che cosa mi consiglia signora si va di quella dei mondiali poi gli eterni dici scuro dici scuro molto scuro ok allora vado emote mondiali 2019 che tristezza che tristezza è carina poi vediamo oh let's go ma trolli no way mi dispiace ho appena detto perché probabilmente c'ero io che ero di livello 3 eh sì ok adesso eterni apri due vediamo intanto allora le sin sono ah beh sono due lilia e 400 ok adesso che cosa le sfere no le sfere no le sfere in teoria cioè le sfere sono più scarse che le no gli honor eh sì 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 le sfere di honor queste qui sono meno di delle capsule di honor in teoria no 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 fai gli honor ah beh sì sì fai tutto quello che riguarda l'honor ok ok due frammenti di chiave proprio lui 150 di essenza qua attenzione sei frammenti di chiave e 600 di essenza poi sei frammenti di chiave e 500 di essenza ok adesso capsula attenzione 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 brahum 4 frammenti di chiave e tanto amore come emote c'ho 20 frammenti di chiave assurdo poi warwick pike gettone onore 5 che non so cosa sia 5 frammenti di chiave twitch cupcake urrà è vecchino questo credo sì è abbastanza vecchio ok gettone onore ah hai capito bloccati twitch medievale a sto punto no 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 dopo dopo intanto ah ogni stagione quindi c'è tempo ok adesso che cosa faccio aspetta intanto no quelle dopo quelle dopo ok faccio fai le robe le uova di quindi questo apri attenzione una blu uh bella questa mi piace un bot melismo perché c'è la canzone di di giants verde verde no bruttissimo 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 no no è bruttissimo bruttissimo no no è bruttissimo è bruttissimo è bruttissimo oh e ti prendi anche una skin prestigio una blu attenzione uh scisa crepuscolare ok ti prendi la skin prestigio di senna no 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 ci no no non mi piace aspetto aspetto quelle che usciranno tanto ce n'è di tempo eh uomo non mi escono ancora si esce quella ancora di soraca si magari mi piace quella hai 300 gettoni in prestigio no 275 ok il prossimo pass che prendi giusto? non so se lo prendo ok se lo prendi muoviti perché fino al 10 novembre per fermare per la stessa eh vabbè 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 ehm che poi qui c'ho gettoni dei mondiali quindi volendo posso prendere anche una di queste si no te li tieni e ti prendi una skin prestigio o di kaisa o di 7 fra no i gettoni mondiali te l'aspetti e te li prendi e te li tieni per una skin o di kaisa o di 7 perchè so che tu tanto comprerai il passo ma non lo compro fra lo compri te lo dico io ma non lo compro con che soldi ahahah vabbè vabbè dai su dopo dai eh ok quindi emote si va di sim emote e te le fa aprire una alla volta si fra uh quella di jaso stra vecchia poi attenzione seconda emote bel tentativo ok ci sta inammessibile ok ci sta ah questa è abbastanza bruttina rip rip ok vediamo ah app e burbara ci sta bella si si ci sta questa quella che usa recl ok ok adesso che cosa faccio le ceste o le orbe queste si forse reclpo lavoro si forse reclpo lavoro due e una tutte due insieme ma tu ti apri tutte le ceste insieme eh mister mondo universo c'è dentro una gemma trash stagione 2013 e una gemma e sono a 10 gemma attenzione oh ti puoi prendere una skin eh lo so lo so poi eh queste venti o queste cinque no da cinque da cinque ok ok oh vain sindra grande giustiziera bella bardon della nevicata bella renekton festa in piscina molto bella e la l'emote spezza cuori vabbè vabbè ok adesso devo fare apri 10 apri... ah eh si allora ekarim aziz ziggs maestro dell'arcano bellissima sindra festa in piscina ma sono tutte nuove ti voglio menare tristiana ragazza raz o la firra yet mhm c'eri meglio ascia cerca cuori c'eri meglio ecco pulse fire molto bella ma sono tutte nuove poi crudelia leblanc neda lì mega galattica ci sta e un'altra gemma e un'altra gemma niente un'altra cesta vabbè poi apri 10 attenzione attenzione ancora tre forze rietek e vabbè è andata è andata e zero il pulse fire però vedi veramente aspetto rip aspetto permanente supremo mhm ah dici ah beh si non c'ho ezreal quindi può essere poi sejuani orianna attenzione diana luna di sangue bellissima te la tieni per aziz galattico molto bella malfite di ossidiana bellissima tipia orianna uh questa è bella perché quelle di sono quelli antichi poi non so se distruttore del mondo molto bella e lume opsid venti venti assurdo cioè come l'ho trovato vabbè fa niente poi lume macchina da guerra stravecchio tre chiavi etek e 300 di essenza arancione etek ok adesso apro di nuovo le altre tre attenzione un altro forziere etek poi kindred nami skttt1 programma e un'altra chiave e un'altra chiave ekstek ok adesso un altro aspetta aurelion sol e via ok adesso le sfere pulse fire o quelle a cane pulse fire si ok ah si perché era quella dove ho preso il pass effettivamente allora apri 10 attenzione timo elfo felice braum città del crimine che in realtà era braum mafioso un tempo lucian de matcha live no de matcha vice rip poi atrox cacciatore dei mari aziz galattico di nuovo amumu festa sorpresa ci sta rakani g mi stai sul cazzo è felice ma ha sbloccato immediatamente quella nocturne nocturne razziatore ah orianna prodigio invernale karate cannon no no e un'altra gemma ahahah 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 ok adesso apri 4 volibir guardia runica bellissima kindred mega galattico ce l'ho cartus dei pentakill bella nello skin di cartus brand della luce e vabbè vabbè e che fai te ne privi ok poi ci sono quelle a cane e quelle a canmei quale faccio ok a cana a cana a cana a cana a cana e e questa e questa e muovete ok ok allora brauma corsa al dolcetto bellina come skin jarvan iv ssg jarvan 4 ssg si ah cazzo è vero poi cazzo per sirena sei meglio e udir primordiale mamma mia cosa è bella o brutta no ahahah ok è udir eh vabbè e questo ma queste lasci per ultime lasci per ultime che sono sei eh si ma le altre sono anche di meno appunto lasci per ultime eh quali eh Opsi mondiali mondiali prima ok eh Yorick becchino carino molto bella come skin mhm poi sfere attenzione attenzione caitlin guerra artica la cosiddetta caitlin sovietica e pantheon spietato molto bella mhm come tutte le skin di pantheon adesso eeeh le acane c'è le acamei acamei allora vediamo vediamo graves evaso assurdo vecchissima così super vecchia jayce rubacuori rip non uso jayce ash ametista mmm non è malvagia ce l'ho ma c'è molto di meglio vabbè immagino twitch red il crimine molto carina gianna meteorina l'avevo l'avevo già e poi kogmao monarca ah io c'ho kogmao arcano no non arcano si no arcano pixel microfono prego no cos'è successo tutto rotto tutto tutto rotto tutto rotto ok adesso ti prendi una skin hextech eeeh ma non devono uscirne altre o è già ah no era già uscita quella di ziggs mmm ti dico la verità io se fossi in te prenderei o quella di swain mmm o quella di renekton mmm o quella di ecarim ma allora ti dico quella di ecarim non l'ho mai vista è bellissima però allora io essendo un fan delle stelle oscure sceglierei chogat solo per la collezione e effettivamente hai ragione e però swain next che è spettacolare ma si è vero però vabbè vai 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 di chogat chogat c'hai ragione si si via e bigliamoselo e bigliamoselo ma adesso ti prendi due skin prestigio e quantomeno una ok no aspetta non ho capito ti prendi una skin prestigio eeeh ma fra ma non mi piacciono sono brobriose no allora senna true damage è bellissima si ok ma non mi piace mmm no non sei un main support? si ma no uso piuttosto soraka aspetto quella di soraka che non so neanche come sarà hai 275 punti precisione puoi prendere entrambe mmm si ma anche quella di zayra è bella cioè per dirti quella di zayra è bruttissima sai cosa è meglio quella base nel senso ram eh si ma c'è ora che la trovo è la fine prendi true damage prestigio insieme ascolta me mmm eh ma non mi piace però eeeh boh dici di farlo eh vabbè è rientrata dici? si vai mmm va bene dai è andata olle no no adesso dobbiamo a quello delle carte ah beh ho detto 8 infatti si ok poi forgiamo le 8 chiavi eh poi aspetta aspetta adesso e questo qui alla fine questi gettoni mondiali te li tieni e prendi o la skin di zayra prestigio o quella di kaisan si ma fra ma è impossibile con 270 ti prendi il passo ti prendi il passo me lo compri te eh no e allora ti prendi il passo e si ma e vabbè disincanto oh quanta roba bra che cos'è fra ma disincanta i campioni che hai dopo no ma si ma ok ma sono fantastici queste skin sono fantastiche vabbè a zir galattico direi di disincantarlo allora ti metti lì e re rolli una vabbè a zir galattico una la re rolli tanto ne hai due eh infatti eh ma boh cioè con chi caitlin allora re rolli quella di kogmo quella di a zir e quella di kent aspetta allora questa cambia un aspetto per me questa e no 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 tieni quella di a zir eh si eh ma ne ho due ah ne hai due ah ok e e e e quella di kent no quella di udir ah quella di udir quella di udir hai ragione swain signore dei draghi molto bella così così c'ho anche già swain la skin ehm c'ho due braum lol c'ho molti support eh no li tengo tutte e due in caso li tengo tutte e due e allora re rolli cosa sto vedendo no mondo è bellissimo non lo tocchi allora re rolli re rolli Olaf si è bruttissima Olaf Kennen Kennen e ehm Kogmo ah si Gangplank forza spe... oh che schifo però bruttissima ehm Tristana Razzo Leblank e Timo no Timo per carità e Timo e Timo piuttosto Cassio leblank e Cassio dai povero Timo c'è cosa ti ha fatto di male eh zaccarma speciale ovvero uno slime viola ma ma eh sindra grande giustizia vabbè Thor ha ack ho c'è lo ho cheating ma la Disney rhhh TVB Io no Sblocca Ezreal Hai ragione anche te Allora, tre frammenti sicuramente non mi servono Ma ho trovato il frammento permanente di Warwick Cosa? Non li ho mai visti però Disincanta tutti i campioni che hai acquistato No, no, tutti quelli che ne ho tre Tipo Talia Talia ancora E ti puoi già prendere Senna? Sì, vero Intanto Ali manda il link del gioco C'ho quattro mondo Ok, allora aspetta Senna hai detto, sì Acquista campione Sblocca 6.300, via Ok, ora facciamo così Sblocca E voilà Ora Ezreal O Swain Ezreal Quanto costa 4.000? Sì Vediamo Twitch Ma Disincanta tutti i campioni che hai già acquistato Eh sì ma di solito io li tengo per le maestrie Perché sono un po' così Prato ma non fai delle maestrie Allora Sì ok non so tutto però Cosa? Tipo Pyke che ho visto che l'hai acquistato nei due Una butta la via Eh ma sono per le maestrie Uffi Ma dove? Tipo Thalia Quella non lo userò mai Quindi quello sicuro lo butto Ok facciamo così Voilà Eh lo so Ok Adesso cerchiamo il nostro Carissimo No non sacco Ok Ok Eh questo sì Ok Hai montato il link ali? Sì sì Lo so Ok ok lo sono montato Sì sì l'ho visto Ho sentito prima che Ok Un sacco di skin di Orianna Mamma mia Così mi sento per bene un bravo main Poi No fra comunque A parte gli scherzi C'ho un casino di skin di support C'è Trash Ehm Aspetta Trash Ehm Trash Ma Ehm Malphite Ah è Ash Se proprio lo vuoi mettere Zack Ash ancora Rakan Nami 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 ancora Ehm Braum Braum Brand Gianna Swain Amomo e Bard C'è Sono un casino No mi dissocio Mi dissocio Eh? No Mi dissocio Vabbè se ti dissocii Ci sta E quindi niente Bella Non ma No ma No ma No ma